È stato travolto da un'auto e la violenza dell'urto l'ha fatto cadere a terra privo di sensi. Un gravissimo incidente stradale che si è verificato questa mattina, poco dopo le 7, nel comune di San Giorgio. A pagarne le conseguenze un ragazzino albanese di soli 15 anni, trasportato d'urgenza e negli soccorso all'ospedale di Parma. Il giovane stava camminando a piedi da solo in via Firenze nella località di Case Nuove, frazione di San Giorgio, quando, secondo i primi accertamenti, si è scontrato con un'autovettura che stava transitando lungo la strada. Le condizioni del 15enne, che nell'impatto ha perso conoscenza, sono parse subito molto serie. L'ambulanza del 118 si è precipitata sul posto e ha chiesto l'intervento dell'elicottero, che ha portato il ragazzino nel reparto di rianimazione dell'ospedale maggiore, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Le dinamiche dell'incidente stradale restano al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Piacenza, che hanno eseguito rilievi del caso.